L'antiqua candida Genova a diventare la capitale dell'antiquariato e con un filone che è quello del mare che appartiene a Genova e che rientra nel DNA di Genova. Genova sa essere una città che tramite il mare riesce a diventare una porta di dati fenomenale con le hub e i cavi di dati che sono approdati già sul litorale genovese e con Antiqua riesce a dare uno sguardo anche al passato e all'arte in tutte le sue forme focalizzandosi sempre sul tema del mare e in particolare in questa esposizione ci saranno comunque diversi tipi di pezzi di antiquariato importanti che riguardano anche gli arredi, la marineria, riguardano tutta una serie di ritratti anche di benieri che rappresentano per Genova un punto d'orgoglio perché il mare è veramente la carta di identità di Genova. Nell'anno dedicato a Ocean Race, al mare, una mostra mercato di antiquariato, credo che fosse la giusta connubio e collaborazione coinvolgere il Galata Museo del Mare che ricordiamo a tutti è il più grande museo marittimo del mar Mediterraneo, una delle eccellenze e il fatto di poter essere presenti anche ad Antiqua diciamo che è anche un po' una promozione culturale e turistica, i visitatori del museo avranno la possibilità di accedere con uno sconto alla mostra mercato di Antiqua e chi avrà voglia dopo aver comprato ad Antiqua venire al Galata noi lo accoglieremo con un biglietto ridotto quindi una sinergia tra Porto Antico e Muma.